Signori buongiorno e bentornati sul canale del Mastercard dopo la pausa estiva Finalmente stiamo cominciando ad andare verso l'autunno, le temperature dovrebbero scendere a breve il che per chi soffre il caldo come me è una manna soprattutto perché non avete idea di cosa vuol dire stare con le luci a registrare con la temperatura che c'è ad agosto Comunque se per me questo è un periodo felice anche perché riprendo col canale so che l'età media su youtube è abbastanza bassa e quindi immagino che molti di voi sarete in crisi perché è il periodo in cui ricominciano le scuole Ora per cercare di rendere lo shock del rientro scolastico un attimo meno traumatico ho pensato che sarebbe bello fare un video dedicato a quali sono le materie scolastiche che possono tornare utili a un master o comunque anche a un giocatore di giochi di ruolo Ho fatto qualche intervista e vediamo insieme cosa ho raccolto Per preparare questo video mi è sembrato giusto sentire tutta la comunità generistica con cui riescivo a entrare in contatto sia di persona che via social Più che altro perché se è vero che ognuno ha un proprio approccio al gioco di ruolo è anche vero che ognuno ha un proprio percorso di studio un proprio approccio verso l'istruzione quindi non necessariamente le scuole che ho fatto io sono le stesse che hanno fatto gli altri e volevo avere la visione più completa possibile sull'argomento Delle persone con cui ho parlato di persona non posso fare altro che ripetere le opinioni Alcune delle risposte che ho avuto via social le vedrete apparire man mano che parlo nei momenti più significativi Non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere cosa ho raccolto con le domande che ho fatto in giro Dalle risposte che ho ricevuto ho potuto notare che fondamentalmente ci sono due approcci alla conoscenza nell'ambiente dei giocatori di ruolo uno più generalista e uno più orientato verso steppetti tecnici pratici Cominciamo da quello più generalista perché grossomodo sono tutte cose che fanno parte del programma scolastico delle scuole medie forse superiori per qualcosina L'argomento che sembra più comune in assoluto, la risposta che ho avuto più di frequente è stata l'analisi del testo Cioè quegli esercizi di leggi il testo e rispondi alle domande che normalmente sembrano molto stupidi ma in realtà servono come allenamento a leggere e comprendere velocemente quello che si sta leggendo Dato che come master voi dovrete leggere i regolamenti che molto spesso sono pagine e pagine di regole complesse L'abilità di leggere velocemente e capire velocemente quello che si sta leggendo è fondamentale soprattutto per tagliare i tempi di studio dei manuali e tagliare i tempi di studio in linea generale senza contare che l'abilità di capire quello che si legge è quello che distingue gli esseri umani dai terrapiattisti Quasi altrettanto gettonata come risposta è stata la retorica che però nelle scuole inferiori mi sembra che si chiami capacità di espressione Comunque la capacità di parlare in modo chiaro e vi esprimere i concetti nella maniera più sintetica e accurata possibile In quanto master i giocatori dipendono da voi per tutto quello che riguarda le descrizioni degli ambienti la descrizione delle azioni la descrizione degli ambienti la spiegazione delle regole Il 90% del vostro lavoro è parlare con la gente per fargli capire delle cose Più bravi siete a parlare e più è comprensibile quello che dite migliori sarete come master E sì, questo comprende anche l'abilità di saper leggere in maniera propria ad alta voce che può essere imbarazzante ma a parte il fatto che come master avrete comunque gli occhi di tutto il tavolo puntati addosso se vi imbarazza parlare in pubblico il masteraggio non è quello che fa per voi, mettiamola così In più comunque come master vi può capitare, anzi vi capita molto frequentemente di dover leggere magari ad alta voce delle regole per spiegarle a tutti leggere dai vostri appunti leggere le descrizioni dei mostri dei vari bestiari Se usate avventure prefatte o anche intere campagne pre-made vi potrebbe capitare di dover leggere intere pagine di testo agli avventurieri e interi dialoghi man mano che andate avanti Quindi leggere in una maniera appropriata è un must Altre due materie che si studiano nei superiori e che sono molto importanti per un master sono storia e letteratura Come master voi raccontate storie raccontate le vostre storie ai vostri giocatori La letteratura è la materia in cui leggete le grandi storie che l'umanità si è raccontata a seconda del vostro indirizzo di studio saranno letteratura contemporanea o magari studierete letteratura latina, letteratura greca qualche tipo di letteratura estera comunque le storie più importanti di quella cultura e anche come si scrivono le storie principi base come l'inizio, lo svolgimento, la fine raccontare una storia fondamentalmente è una versione più lunga e complessa di scrivere il tema non è che ci si può girare più di tanto attorno Se sapete quali sono le storie che gli altri si sono raccontati avrete più storie da raccontare ai vostri giocatori La storia di per sé vi permette di capire come pensavano come agivano i popoli nelle varie ere e come hanno reagito a determinate situazioni che potrebbero capitarvi all'interno delle vostre campagne o che i vostri giocatori potrebbero scatenare all'interno di una campagna La reazione di una popolazione alto medievale a una catastrofe sarà diversa da quella di una popolazione moderna o di quella di una all'età del bronzo In più, se la storia vi affascina e vi mettete a sgattaiolare e scoprire le minuzie vi posso assicurare che la storia reale è molto più paradossale e inverosimile di qualsiasi racconto fantasy o fantascientifico leggerete mai Nel mondo reale sono successe cose che non potete neanche immaginarvi Per quanto riguarda le materie scientifiche la fisica è quella che vi permetterà di avere un'idea più concreta di come il mondo di gioco funzioni o comunque debba funzionare Per quanto voi stiate masterando un'avventura fantasy avere un minimo di conoscenza della fisica vi metterà nel giusto abitus mentale per continuare a tenere le cose in un sistema coerente anche se non basato sulla fisica reale Per gli stessi motivi anche qualche nozione di chimica, meccanica e quelle che vengono chiamate scienze della terra vi potrà tornare molto utile per rendere le cose più verosimili e più realistiche possibili se è questo il vostro intento e in più spesso vi eviteranno di farvi fregare dai giocatori con proposte che apparentemente sembrano logiche ma che nella realtà non potrebbero mai funzionare Inutile sottolineare come la matematica vi sarà fondamentale La maggior parte dei giochi, praticamente tutti quelli dell'old school hanno dei regolamenti che si basano su delle regole matematiche precise dei valori numerici e dei calcoli per ottenere dei risultati sapere contare bene e velocemente vi accelererà molto il gioco e in più vi eviterà di fare figure barbine di fronte agli altri giocatori In più, considerate che ogni volta che dite la frase Ah, mi serve un 12 per colpirlo o Ah, mi servirebbe almeno un 15 per passargli la CA state risolvendo a mente una disequazione di primo grado anche se non ve ne rendete conto Sì, quella roba serve davvero nella vita reale Un discorso a parte va fatto per l'inglese che per molti è una materia scolastica Non tutti i giochi vengono tradotti in italiano anzi, in realtà la maggior parte non viene tradotta però quasi tutti i giochi in ruolo almeno una versione in inglese ce l'hanno quindi conoscere un inglese di base nulla di più complesso di quello che imparate alle medie più qualche ora settimanale di allenamento sui giochi in rete però un minimo di cognizione dovete averlo anche per il fatto che anche quando ci sono delle traduzioni in italiano non sempre queste sono scevre da errori, da incongruenze o da traduzioni che apparentemente sembrano corrette ma in realtà soprattutto quando si tratta di regole anche solo cambiare una parola potrebbe sconvolgere completamente il significato della frase quindi essere in grado di andare a controllare direttamente sull'originale sicuramente non vi fa male in più c'è anche un sacco di materiale di espansione sia originale delle ditte sia scritto da fan, da altri giocatori di ruolo, da altri master che viene diffuso gratuitamente con la rete che se non conoscete l'inglese fondamentalmente non potete adoperare quindi è anche un metodo per aumentare i propri contenuti senza dover spendere soldi se tutto quello citato grosso modo finora fa parte delle materie di studio della scuola dell'obbligo quindi conoscenze che dovrebbero essere già comuni a tutti ci sono delle cose più tecniche, più specialistiche che vi fanno molto comodo come master primo tra tutti è il game design che è proprio lo studio e la progettazione dei giochi sono competenze specifiche che vi permettono di valutare nella maniera migliore possibile i giochi che state facendo capire a un livello più profondo le regole che state applicando e la base di quello che è il gioco di ruolo è quasi tutti gli altri giochi da tavolo ci sono dei corsi ma sono tutte cose che si fanno dopo il diploma quindi è già una preparazione al limite universitaria se però siete veramente interessati questo è proprio quello che bisogna studiare per entrare nell'ambiente dei giochi di ruolo al pari come complessità c'è la teoria della narrazione lo studio dei racconti delle tradizioni sia orali che scritte nel corso della storia dove viene spiegato nel dettaglio come si imposta un racconto la divisione in atti tutta la teoria narrativa che c'è dietro all'impostazione di una storia anche in questo caso stiamo parlando di competenze perlomeno universitarie oltre questi due enormi macigni c'è tutto il discorso sulle scienze sociali soprattutto psicologia e sociologia essere un master vuol dire relazionarsi costantemente con altre persone quindi le scienze che studiano il comportamento umano vi servono sia per gestire meglio il vostro tavolo sia per rendere molto più realistiche le vostre ambientazioni soprattutto la sociologia che studia le masse il comportamento delle moltitudini vi aiuta moltissimo quando pensate a come l'intera vostra ambientazione reagisce a determinati eventi e la psicologia vi dà una marcia in più quando create i personaggi e gli date delle motivazioni una delle risposte che mi ha più colpito perché effettivamente non ci avevo mai pensato è il design avere elementi di disegno tecnico e architettura vi aiuta molto sia per rendere più realistiche le narrazioni le descrizioni che fate sia delle città sia degli interni ma vi dà anche delle competenze su effettivamente come si disegna una piantina vera e quindi renderà i vostri interni molto più realistici non solo per la descrizione che ne farete ma anche proprio per la pianta che progetterete per il terreno di combattimento senza contare che non farete come me cioè disegnerete dei dungeon che sono anche veli da vedere non degli schizzi orribili c'è un po' di acquadretti se si vuole trovare una morale a questo video credo di essere in accordo con una delle risposte di maggioranza che ho ricevuto cioè più ne sai meglio è essere un master vuol dire gestire un'enorme quantità di aspetti sia regolistici che narrativi che di interazione sociale quindi maggiori sono le vostre abilità più possibilità avete di evitare errori di avere successo e di essere un world master se siete specializzati in alcuni campi probabilmente quelle abilità in quegli aspetti del masteraggio sarete migliori rispetto ad altri però dovreste avere un'infarinatura di tutto per poter gestire tutto nel miglior modo possibile in più come morale da vecchio dico ai più giovani che stanno guardando magari adesso non ve ne frega niente vi sembrano tutte cazzate ma quando arriverete alla mia età fidatevi che quelli che alle medie al liceo non hanno approfittato del periodo per farsi una cultura si vede che sono rimasti dei coglioni la gente lo sa decidete voi più di una persona ha citato anche il teatro e le arti recitative probabilmente l'avete visto anche nei messaggi che ho messo in giro tra il video ma tantissimi con cui ho parlato a voce hanno detto bisogna saper recitare bisogna conoscere il teatro ora su questo io non sono del tutto d'accordo però mettermi a parlarne adesso a chiusura del video non farebbe altro che rendere il video ancora più lungo di quello che è diventato e non scenderei abbastanza nei dettagli quindi per questo vedrò di fare un video in seguito non so esattamente quando ma su questo argomento ritorneremo più avanti se qualcuno comunque ha delle idee in merito usate l'area di condivisione qua sotto il video è un argomento su cui sono particolarmente interessato a sentire anche l'opinione degli altri per questo video invece è tutto voglio ringraziare tutti quelli che hanno collaborato rispondendomi sia nella vita privata che sui social soprattutto il gruppo Pathfinder GDR Italia sono veramente bravi passate e andate a trovarli non ho potuto inserire tutti i messaggi di tutti quelli che mi hanno risposto sarebbe stato anche inutile molti messaggi erano uguali gli uni agli altri però ho cercato di raccogliere tutti i nomi dovreste vederli scorrere qui da qualche parte spero di non aver dimenticato nessuno ringrazio tutti per il resto voglio sapere voi cosa ne pensate e quali sono state le materie che per voi sono state più importanti nella vostra carriera GDRistica mettiamola così se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete che aiuta a crescere il canale io sono il Master K e noi ci vediamo al prossimo video grazie a tutti